Qualche conferma, tanti giovani arrivati in prestito, elementi in prova. Il gruppo di giocatori impegnato questa mattina nel secondo giorno di preparazione è folto. L'ultimo arrivato è Marco Ferrara, esterno sinistro difensivo classe 94, giunto alla Pergo Lettese in prestito dalla primavera dell'Inter. E nei prossimi giorni il DG Fogliazza in sede di mercato piazzerà i colpi d'esperienza, uno per ogni reparto. Tra i confermati, dopo l'ottima stagione disputata in Serie D con la maglia giallo-blu e la fascia di capitano al braccio, c'è anche Mario Scetti. Il difensore è consapevole che il campionato che attende il Pergo sarà molto difficile. Il campionato sicuramente il più difficile credo che ci sia mai stato, perché comunque con nove retrocessioni è davvero difficile, quindi bisognerà subito conoscersi bene, perché la maggior parte dei ragazzi sono nuovi, cercare di farli ambientare subito e cercare di dare il massimo per salvarci e quindi per fare un campionato di C unica l'anno prossimo. Quando si comincia un nuovo campionato è giusto porsi degli obiettivi, ecco quelli di Scetti. Prima di tutto si sa che arriva la squadra, quindi la salvezza e poi il personale comunque è quella di... mi sono rimesso in gioco perché volevo tornare in C. Avevo già fatto a due anni, una a Varese e una a Pizzighettone, quindi avevo voglia di tornare e vedere se sono ancora all'altezza della C. Al momento il più anziano, tra virgolette, del gruppo è il nuovo acquisto, Ivan Buonocunto, 27enne prelevato dal Voghera. La cosa fa un certo effetto. Stavo adesso ridendo con Scetti, mi trovo a essere il più vecchio, ho 27 anni, però purtroppo c'è questa regola che secondo me è sbagliata, però adesso è inutile parlarne troppo, cerchiamo di fare un gran campionato quest'anno per riconfermarci poi il prossimo anno nella C unica.